Ciao a tutte ragazze, bentornate! Oggi Nell'Art Tutorial ispirato all'etichetta del codice a barre. È una Nell'Art davvero molto molto simpatica. Seguite il video tutorial per capire come si fa questa Nell'Art. Dopo aver steso uno smalto bianco su tutta l'unghia, con lo smalto da Nell'Art nero iniziamo a tracciare e allineare delle linee spesse e sottili alternandole. Adesso con una Nell'Art pen nera vado a scrivere un numero di quattro cifre. Basterà passare un velo di top coat e la Nell'Art, come potete vedere, è completa. Fatemi sapere come al solito in un commento cosa ne pensate di questa Nell'Art. Se vi va aggiungete il video tra i preferiti e condividetelo su Facebook. Io vi rimando al prossimo tutorial Red Nell'Art. Un bacione a tutte ragazze. Ciao! Grazie!